Il liceo scientifico Renato Cartesio a 20 metri e questo è di fronte a Cartesio. Quello è un parco dove sicuro ci sono dei rifiuti sotto, già l'abbiamo attestato con varie associazioni, questo è il liceo, di fronte al liceo e questa è la situazione del liceo, degrado assoluto, sporcizio, rifiuti. E' una cinquantina di metri, e' una cinquantina di metri abbiamo il famoso deposito De Luca incendiato il 31 agosto, ancora in questo stato. Questo è il parco dove sotto sono interrati i rifiuti, di fronte sempre a Cartesio. ecco dove vanno a scuola i nostri rifiuti. e' un'altra cosa. 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 Ne è un'altra cosa.